Ora dobbiamo occuparci di Machshot, non possiamo rischiare che nelle finali abbatta il barone prima di te. Per di più dobbiamo ancora ringraziarlo per la visita al nostro hunger. Vero, vero, il barone tiene d'occhio Machshot da quando ci ha attaccati. Non possiamo attaccarlo apertamente o rischiamo di essere squalificati. Per nostra fortuna l'ispettore Fox è qui in giro a cercarci. Capito, le metteremo l'uno contro l'altra. Dopotutto Machshot è un criminale internazionale, Carmelita non potrà resistere. Mi preoccupo solo per la sicurezza dell'ispettore Fox. Non ci pensare, può affrontare ben di più di uno scontro con Canepazzo Machshot. Ok, io spingerò Machshot a Marissa e lo porterò al punto d'incontro nella piazza. E io attirerò l'attenzione di Carmelita e la farò arrivare giusto in tempo. D'accordo. Devo farti complimenti, Bentley, è un piano davvero rosco. Beh, grazie, ne sono fiero in effetti. È il momento di preparare un piano e dobbiamo preparare la bella e la bestia e faremo Carmelita contro Machshot. Li metteremo l'uno contro l'altro.